La Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto una truffa da parte di un'associazione di volontariato che addebitava persino il trasporto di persone dializzate morte da mesi per ottenere maggiori rimborsi. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando Provinciale di Pescara guidati dal colonnello Vincenzo Grisorio hanno scoperto che nell'ambito degli interventi di soccorso in emergenza 118 dei cosiddetti trasporti secondari infermi con particolare riferimento ai pazienti dializzati c'era chi per ottenere maggiori rimborsi attestava il falso. In particolare, secondo gli investigatori, un'associazione di volontariato che svolgeva la sua attività in convenzione quando trasportava pazienti sistematicamente indicava costi notevolmente superiori rispetto a quelli realmente avvenuti. Nello specifico, l'associazione ha dichiarato molteplici trasporti singoli quando, invece, erano stati effettuati trasporti cumulativi di persone che, in alcuni casi, erano addirittura ormai decedute da mesi. I responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Pescara per truffa aggravata ai danni dello Stato e l'associazione è stata segnalata per violazione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti. La Guardia di Finanza ha inoltrato gli atti anche alla Procura regionale presso la Corte dei Conti dell'Aquila. In un caso, all'AS di Pescara, è stato chiesto il rimborso per il trasporto di una persona che aveva subito un trauma da una località fuori regione in cui si trovava in vacanza la sua abitazione senza alcuna autorizzazione e in assenza dei requisiti di legge. Nel 2017, con questo modus operandi, l'associazione ha ottenuto dall'azienda sanitaria pescarese circa 40.000 euro non dovuti. Il comandante Vincenzo Grisorio spiega che l'indagine delle fiamme gialle ha impedito che l'attività illecita si protresse nel tempo e dare casse ulteriori danni alle casse pubbliche. L'attività di servizio conclusa conferme il costante impegno del corpo nel contrasto ad ogni forma di illecito e frode ed è finalizzata a salvaguardare i moltissimi organismi di volontariato che operano con scrupolo e professionalità, attenendosi alle regole. Intanto il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari annuncia che presenterà un'interrogazione all'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì per far revocare la convenzione. Al tempo stesso chiederò, prosegue Pettinari, che sia attivata un'indagine conoscitiva interna all'azienda sanitaria per avere un quadro completo della situazione, accertando eventuali responsabilità da parte di dirigenti e funzionari. Se dovessero emergere comportamenti poco trasparenti, pur nel rispetto massimo del lavoro della magistratura, mi auguro che siano presi provvedimenti disciplinari esemplari. Le notizie che stanno emergendo in queste ore, se confermate, rappresenterebbero uno scenario di assoluta gravità. Regione Abruzzo, conclude Pettinari, ha il dovere nei confronti dei cittadini di andare fino in fondo alla questione e fare luce su quanto sia effettivamente accaduto.